Arte cinematografica, VIP e più in generale la cultura naturalmente, ma anche le eccellenze della gastronomia locale. La mostra del cinema di Venezia ha ospitato nello spazio della regione del Veneto Film Commission anche i cuochi contadini, i giovani malgari ed agrituristi di Coldiretti Belluno che hanno portato all'ido le tipicità delle Dolomiti. Un palcoscenico d'eccezione in vista anche del futuro evento olimpico 2026. Siamo arrivati a Venezia per la promozione del nostro meraviglioso territorio, della provincia di Belluno e lo faremo in collaborazione ovviamente con Coldiretti Veneto, con la Camera di Commercio di Treviso e Belluno, con il Comune di Belluno, la provincia di Belluno e anche con Oltre le Vette. Noi come agricoltori siamo sicuramente i primi promotori del nostro territorio, dei nostri prodotti, del nostro cibo sano che vogliamo portare alla ribalta così importante come quella del Festival del Cinema di Venezia. Passerelle, degustazioni di prodotti tipici, i profumi e i sapori della terra bellunese sono stati fra i protagonisti della grande kermesse internazionale durante la quale è stata presentata anche l'edizione 2024 della rassegna bellunese Oltre le Vette, tesa da sempre ad esaltare e diffondere la cultura della montagna. Raccontiamo tutto quello che riguarda la montagna, sia dal punto di vista della parte sportiva che dal punto di vista culturale, quindi cinema, film, la presentazione di libri, ma anche una riflessione approfondita su tutti i temi ambientali e del vivere in montagna sia come turisti che arrivano nelle nostre zone, come ospiti, che per le persone che devono invece viverci quotidianamente. Una vetrina d'eccezione per valorizzare al meglio il binomio cultura e agricoltura. È promozione del territorio, è storia del territorio, nell'ambito delle montagne, posto che Venezia deve tanto alla montagna bellunese, quindi c'è anche questa sorta di collaborazione storica da oltre 600 anni tra la nostra realtà montana e quella lagunale.